Il crimine informatico fa registrare situazioni da allarme rosso e l'eccellenza italiana della ricerca fa quadrato per cercare soluzioni. Infatti è stato costituito il Comitato Nazionale per la Ricerca in Cyber Security, aperto a tutte le organizzazioni di ricerca nazionale. Il Comitato punta a coordinare l'eccellenza nazionale della ricerca sulla sicurezza informatica. Tra gli obiettivi la progettazione di un ecosistema più resistente ai cyberattacchi, nonché a svolgere attività di formazione e di collaborazione con organizzazioni europee e internazionali. L'accordo è stato firmato dal Presidente del CNR Inguscio e dal Presidente del Cini, prinetto alla presenza del Prefetto Barsa, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo sviluppo delle tecnologie non è solo un'esigenza per la sicurezza del Paese, ha detto Inguscio. Il mercato mondiale della sicurezza informatica è destinato a crescere da 75 miliardi di dollari. Si prevede che la domanda mondiale di posti lavoro in questo campo sarà di 6 milioni entro il 2019. Mimmo Siena, Speciale News.